... ... ... ... ... ... Brown nell'angolo per Brux, che parte con uno contro uno, in più della linea di fondo Volgertensae gira sul piede per... ...il più tre nuovamente di Trento, Atkins gioca con quattro falli sulle spalle, ve lo ricordo, poi Brux, fa tutto molto bene... Per il Tessitore e Brooks, 5 sec. E ora a Brooks, un po' di una parte di partita. Rangere, a scontato di un po' di brucia. Brooks, Brooks! Balvin, clavele per Balvin. Rottirà Barks, sia in assistenza, volvino, l'Olicoppo è rampa. Molascini, 8 secondi per l'attacco della Reier, palla fuori per Brux, che attacca il ferro con Spazio. Perazza di palla Hamilao di Nicolao, con Brux, che giri se, vede una fredda. Di Nicolao, driving, kick out to Jeff Brux, Brux, good spin, gets it. E' li moguće, s pravom, siri ruke Silvašano, ovo è velika, sudačka pogreška, bila su bar, dva, faula, i onda... Sempre da Tavernelli cerca Watt, servito Brux, che può attaccare, si prende questa tripla in steppe. Ancora Spissu, attacca il centro per Brux, che attacca su volta il centro, vinta dopo la virata. Motivi familiari, O'Conner dall'angolo, si alza per il tiro da tre, sbagliato, si vola, rimbalzo con la schiacciata. Amerikan, Uruguay, c'è, 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 c'è. Osa 82 premo osa. Torri, Taglia, Celosodi Meli, Parla recuperando da Milano. López, Sitzka, Rivari Morchio. Ezi-Taxi prende la superstop. Kjer sa 9 metara. Ne. Grazie a tutti. Palleggio per Michinot contro Brooks. Prova a batterlo. Il giocatore francese decisamente... 1 su 5 da 3 nell'arco per la Leier. In realtà è sbagliato il conteggio di 3. De Nicolaou 8 secondi per l'attacco Leier. Riceve Brooks con spazio. Deve prendersi questo tiro da 3 punti! Spissu. Tuttia di set up un alley-oop, ma è sbagliato sul luogo da Brooks e si torna per l'arco! Tante sbaglia però. Moretti conquista rimbalzo. Extrapossesso per Varese. Poi Wolde Densai nell'angolo. Attacca De Nicolaou. Le mecherex, Sassari e Kazan per Brooks. Di nuovo Spissu si alza dall'arco! Con la tripa di poco fa, ma fin in fondo trova. Anzi, cerca Diop, Diop, ma non lo trova. 5 contro 4 della Leier. Palla contro Lisevicius. Il post è l'ex giocatore di Milano che adesso deve attaccare con 4 secondi. Rispitamento, DJ. All'intervallo Venezia ne aveva presi 8, ora sono 9. Johnson per Owens che non... ...Ferice andare a esplorare soluzioni. ...Diucco. Madre con Brooks vicino a Canestro. Conto 3 e 3 resiste. Gran Palla! Sotto! Tessitore protiv Balvin. Uff, qua qua assistenza! Brooks... Ticco! fuori per Bruzza, tiro da tre! Golemac mi odluci drugacce Vino, Bruks prolazi, Giap, Bruks odlično Si metti a zone, va la Venezia, 2-3 A vincevi Nembio, che serve molto bene Baye che poi viene stoppato da... Watt! Još jednom, daista zade probleme Mitchell Watt, Bruks casmi De Nicolao! Le finte di De Nicolao che tira sulla testa di Rozier non viene aiutato dai ferri, lo imbalzo di Bruks poi la palla finisce a parsa, ancora per Bruks con la schiera Spesso ne abbiamo chance di puntierati Simms vraccia, Taker na krilo il Senna, Bruks na tre sfide Va dentro, si arresta, la ributa fuori per Bruks con 5 secondi per andare al tiro Bruks sfida Severini, virata molto elegante 8 punti personali ora nessuno in doppia cifra per Reggio Emilia ma siamo ormai già da qualche minuto nella... Al, parò che adranisce l'amina di Venezia che ora ha progetto l'imbozzare 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 la compagno tu m'è la non troppo la non troppo l'imbozzare il posto il progetto la non torce l'imbozzare poi la non torce l'imbozzare la non torce la non torce scena e figlie alla fiapotin taglio per guardi moraschini che però non riceve allora mococa va dentro da brux che si libera si butta dietro contro gentile se contatto non trova per il compagno altra brutta situazione gestita in contropiede da parte dei giocatori e poi da questo spazio si va da spi su che attacca il centro lascia di zanelli fuori per brux 6 secondi per l'azione di venezia alza la parabola jeffro per bagliette non controlla bene recupero della regia con granger contropiede alza per willis che va appoggiare al vetro invece lo alza prima di buttare giù il pallone sotto gli occhi del avvento troppo il vantaggio nel partire verso il centro altra palla persa per milano shahid all'indietro ancora per oliver halla palla persa può partire brux in uno contro uno con shahid moraschini vuole prendere posizione spalle a canestro libera il quarto di campo per lasciargli spazio una buona spi su un po' si ma bene dai spero l'azione non ha preso bruzza contro severini come anche usare il braccio esterno per aiutarsi alla fine riesce a scavare ancora però di vice e ritorna ad avere 10 secondi a disposizione venezia brux è il fanno controlla